La società Calciopadova Calciacinque è estremamente orgogliosa del riconoscimento di scuola calciacinque d'elite, ovvero sia il livello massimo destinato alle migliori scuole calciacinque d'Italia. Questo percorso è stato fortemente voluto dal nuovo gruppo di lavoro dirigenziale e tecnico che si è insediato nella scorsa stagione, che ha voluto dare un nuovo imprinting a tutta quanta l'organizzazione sportiva e sociale della società. I requisiti che la FIGC ci chiede per ottemperare a questo riconoscimento sono diversi, dirò i più importanti. Partiamo dal numero di tecnici qualificati in organigramma. La federazione ce ne chiede 4, noi ne abbiamo ben 9 in organico. La federazione ci chiede anche un corretto rapporto numerico tra bambini e tecnici per ogni sessione di allenamento. Un altro parametro importante è quello di avere degli spazi adeguati per gli allenamenti per dei bambini e dei ragazzi. La partecipazione dei nostri bambini a tutti i campionati, tornei, manifestazioni indette dalla FIGC. Un altro parametro che la federazione ci chiede, a cui noi teniamo molto è la convenzione con la scuola, per creare un legame con il territorio e per far conoscere il calcio a 5 all'interno delle istituzioni scolastiche. La federazione ci chiede, e noi lo abbiamo fatto con estremo piacere già partendo dalla passata stagione, un percorso formativo con degli incontri di formazione aperti a dirigenti, tecnici, genitori e ragazzi non solo della nostra società ma anche delle altre società. In questa prima fase abbiamo già svolto i primi due incontri. Uno tecnico, dove si parlava delle metodologie di lavoro che utilizziamo nella nostra scuola calcio a 5 e nel nostro settore giovanile. Uno con la nostra psicologa sulle dipendenze tecnologiche. Nella seconda fase di stagione ci saranno almeno altri tre incontri già calendarizzati. Uno sul regolamento di gioco, uno sempre con la nostra psicologa e uno sull'alimentazione sportiva e non con la nostra dietista. Attualmente in tutto il Veneto siamo quattro scuole calcio a 5 d'elite. Noi siamo l'unica attualmente nella provincia padovana ma la primissima nella città di Padova e per noi questo è un forte motivo d'orgoglio. Il nostro augurio è che altre società possano seguire il nostro percorso per accrescere e migliorare sempre più la qualità del futsal giovanile in tutta la regione. Questo riconoscimento adesso è stato conseguito. Ora la vera sfida è quella di mantenerlo e di potenziarlo negli anni per poter dare alle nostre famiglie un servizio sempre migliore. Il nostro invito adesso è quello di venirci semplicemente anche a vedere, magari a venire a provare a giocare con noi perché per noi più siamo più ci divertiamo e per i bambini questa è la cosa più bella che possa esistere. Grazie e vi aspettiamo! Grazie a tutti!